Nell'abbazia di Spineto a Sarteano, i cammini e gli itinerari culturali dell'Italia di Mezzo sono stati al centro di due giorni di confronto tra i rappresentanti di sei regioni, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Marche e Umbria. Obiettivo delineare un percorso condiviso per gestire i cammini come prodotto turistico complesso a cui devono essere garantite manutenzione, promozione, servizi per l'accoglienza di chi sceglie di percorrerli. I contributi di tutti i partecipanti sono stati riuniti in un documento, la carta di Spineto che sintetizza le linee guida e i programmi condivisi da tutte le regioni. Il lavoro che singolarmente abbiamo fatto con l'aiuto del Ministero deve essere messo appunto in una fase più avanzata. La carta di Sarteano che oggi proponiamo individua proprio questo, le finalità, le obiettivi politici, il progetto nel suo insieme e poi gli altri ambiti che sono altrettanto importanti. Al momento i cammini pilota sono cinque, la via Lauretana, la via degli Dei, i cammini di Francesco, la via Matildica del Volto Santo e la via Clodia. Alla fine i protagonisti veri sono gli enti locali, sono i territori, il mondo delle associazioni che di volta in volta troveranno modalità di interlocuzione con i comuni e con le realtà locali. non si mantiene in eccellenza un cammino, non si valorizza, non si mette in sicurezza un cammino se non si innesca un percorso virtuoso nel quale tutti crediamo.